La bella stagione si avvicina e con essa tutta una serie di eventi ed iniziative sul territorio che inizieranno a primavera per poi culminare con l'appuntamento più atteso, quello dell'estate fiorentina 2023. Il Comune di Firenze ha pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi. Il bando è online, alla pagina sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici della rete civica. La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata esclusivamente in modalità digitale con scadenza alle ore 14 del 24 marzo. Come di consueto, la programmazione della Kermess si svolgerà nell'arco di quattro mesi, da giugno a settembre, ed avrà un budget di 1.700.000 euro. L'obiettivo del bando è quello di individuare quelle realtà in grado di garantire un'originalità multidisciplinare e la valorizzazione di vari luoghi della città, anche meno centrali. Ma anche la capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di guardare con responsabilità alle tematiche ambientali. Gli eventi potranno essere a pagamento o gratuiti, come ad esempio i nuovi appuntamenti organizzati direttamente dall'amministrazione comunale, le piazze dei libri con una giornata speciale il 2 giugno dedicata alla Festa della Repubblica, la Gaberiana, una rassegna per il ventennale della morte di Giorgio Gaber, musica e parole sul sagrato della Basilica di Santo Spirito, apriamoci alla poesia e infine un ciclo di eventi in occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani.